ciao a tutti a tutti come state spero bene allora un altro secondo what's my pet questa volta la borsa molto più bella molto più comoda molto più capiente quindi siete pronti non siete pronti sita un bel zainetto nello colorato verde potete dire un verde pisello si dice un verde proprio verde tratto se questo può comunque molto bello e mi piace molto e teatro molto comodo allora qua c'è una tasca né di dietro premette le chiavi quello che volete voi vedete una tasca non si sta facendo sempre niente ok allora una tasca e dentro è bella capiente ci sta molto di più anche chiavi cellulare volete poi la giro si ci ha rompere siamo marchiata si vedete c'è la taschina vedete che siamo più più schia si è qua quando vado aspetta via basso un po ok se non cadete ok allora qui c'è di scorta perché se non la parola scusate una maschera di scorta dove io quando vado non lo so fare le visite di andare all'ospedale ho questa poi come altra cosa qua potrei metterci anche le chiavi il portafoglio allora rimanete fino alla fine vi raccomando tanto non è un video che dura che so quanto allora qua c'ho altre tasche qui qui c'è la tasca qua ce n'è un'altra come si può si può vedere è bella acqua della retraibile bella profonda vedete poi non lo so ce n'è un'altra da questa quale mettere o telefono o chiavi quello che volete voi poi come poi una sì lo so mi vedete l'acqua termale perché una volta presso quando mi sento la pelle a un po tirare della un una pezzetta cellulare con chiudere quello che è poi fino la custodia per gli occhiali della lucio anche qua su youtube poi il pro c'è una certa detergente ma con i fazzoletti un altro ne ho due ma prima poi rivela anche l'altro un portafoglio bello vabbè qua c'è un documenti cose delle settiste vedete comunque questo sto qua di entità una carta punti della farmacia una ragazze ce l'ho nell'altro perchè questo qua carta c'è a non tenere gli scontrini una basta del selfie da qui non per scrivere per scrivermi la cosa altro portafoglio come potete vedere di scorta che non so mai una penna perché servono sempre le penne se voglio scrivere su un tappo e scrivere su un tappo io poi non so parlare fresh and clean salvetti leggeri tanti parla struccanti possono servire ecco qua bene borsa e questa è la borsa in sé vedete che bella capiente grazie a dio si vediamo se mi riesce di chiudere dunque sono e perché no se questo video appunto vi è piaciuto ho fatto compagnia non dico che vi sia stato utile però quando esco al mattino questo preferisco verrà una borsa come questa qua capiente con i manici che potete o la mia borsa barra zaino meglio e quindi ragazzi miei ragazzi miei sì finalmente ce l'ho fatta da avere quello che mi piaceva di più a me uno zaino perchè da da tanto e romperci è così like commento un bacio ciao